Io volevo fare una domanda sul nucleare, visto che nel dibattito si è inserito anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sarra, che ha detto no, puntiamo sulle rinnovabili, ci sono al nucleare, dice il sindaco. Ci mancherebbe, sono sempre disponibile ad ascoltare il parere di chiunque. Temo che oggi come oggi le rinnovabili non siano efficienti per dare una risposta alle esigenze di energia che il nostro territorio ha, il nostro paese ha. È un contributo che può essere dato dalle rinnovabili, ma temo che ci sia necessità di qualcosa d'altro. Il nucleare, soprattutto quello di ultima generazione, è sicuramente una soluzione, credo, accettabile da parte di tutti.